Ecco per la terza ed ultima giornata del quinto Memorial Massimo Scarinci, c'è l'inizio delle gare, fanno i loro ingressi in campo, le squadre che giocheranno le prime gare qua. Ecco entra anche pure la Val di Sangro, c'è la di lì, sono Bari, a centro campo dopo vi schierate, vi schierate in un'unica fila. Allora gli ultimi, due in ginocchio, due in ginocchio, oh il tricolore, aspetta, aspetta, che fine ha fatto il tricolore? Virtus Ortona, Palena, Virtus Castelfrittano, Pescara, Erosillati, Prato La Peligna, Mario Tano a Tessa, quattro golli. Categoria primi calci per questa mattinata, il ricordo del grande, ed unico e indimenticabile Massimo Scarinci. Adesso, grazie signori, grazie. Lui adesso, vi sta vedendo ragazzi, lui è felicissimo vedervi così, che erate in campo, questo è il futuro del calcio. Lui vi sta abbracciando, ed ora tutti insieme, anche i signori genitori, ascoltiamo l'inno di Maneli. Grazie. 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 Bravi ragazzi, bravi. Grazie.